Il 30% ottenuto dal centro-sinistra alle elezioni regionali rappresentano un punto di partenza su cui lavorare. L'idea politica ha portato avanti da Legnini un progetto inclusivo aperto e di questa idea l'ex consigliere Mauro Di Dalmazio, che in campagna elettorale era stato annunciato dallo stesso Legnini come probabile assessore in caso di vittoria. Un 30% che consegue ad un'idea innovativa un progetto diverso, un progetto inclusivo aperto, del quale a mio avviso si avverte la necessità sul campo politico, sulla scena politica. Il riscontro che c'è stato dagli elettori è un riscontro positivo, seppur in una innegabile sconfitta elettorale. Come ho detto sempre ci sono sconfitte belle sulle quali si può edificare un percorso futuro e questa mi sembra proprio che sia una di quelle sconfitte. Una sconfitta bella grazie al coraggio che ha avuto Giovanni Legnini, grazie al coinvolgimento di tantissime persone nelle numerose liste che si sono presentate e io credo che questo rappresenti un patrimonio umano e politico sul quale investire. Su cosa deve lavorare in primis l'opposizione adesso? L'opposizione in consiglio regionale sarà un'opposizione sui temi, sui problemi, sulle questioni e sarà immagino la più autorevole possibile guidata da Giovanni Legnini. Quello che bisogna fare a livello politico è che questo campo largo che parte dai liberali, dai popolari, dai progressisti e coinvolga un po' tutte culture politiche anche di provenienza diversa e con il coinvolgimento della società civile, con il coinvolgimento civico di tante energie deve essere uno schema che va incentivato, avvalorato per trasformarlo in una offerta politica diversa, nuova a mio parere in linea con le esigenze che il mutato contesto politico richiede.